Sono poco appetibili, quindi il dato grezzo di per sé ci dice poco, è vero che abbiamo la possibilità di cucinarli così bene e questo è sicuramente uno dei ruoli nuovi del giornalista, abbiamo la possibilità di cucinarli così bene da renderli molto appetibili e da rendere anche il nostro lavoro estremamente più interessante ma anche più utile per i cittadini, quindi facendo il lavoro di giornalisti in realtà facciamo anche i cittadini digitali. Quali sono gli ingredienti? Si parte ovviamente dal dato aperto, cioè se non abbiamo open data non possiamo cucinarli e quindi sicuramente questo ci serve e la consapevolezza che l'open data serve ci dovrebbe portare anche a chiederli come cittadini, come giornalisti, nel momento in cui non li troviamo. Questo rientra tra le nostre possibilità, si chiama accesso civico, questa opportunità che viene data a tutti i cittadini di chiedere i dati qualora questi non vengano pubblicati. Ovviamente sono determinate tipologie di dato, non tutti, non quelli coperti da privacy, non quelli coperti da segreto militare, eccetera. Però tutti gli altri invece sì, anche perché c'è un principio che si chiama di open data by default che teoricamente vincola le pubbliche amministrazioni a rendere i dati pubblici e aperti. Servono ovviamente delle informazioni di contorno, non basta il dato grezzo per poter scrivere qualcosa su un dato che vediamo pubblicato, dobbiamo conoscere bene l'argomento che rappresenta quel dato. Oggi qui portiamo degli esempi, io vi posso dire che per fare questi esempi ho dovuto leggere molte altre cose. Perché? Perché è ovvio che un dato grezzo di per sé con alcune colonne che magari rappresentano determinate informazioni, nel momento in cui le leggo per la prima volta non mi dicono nulla e quindi ho la necessità di attingere a molte altre fonti di informazioni per rendere quel dato appetibile. E quindi serve molta pazienza nel cercare i dati, perché lo vedremo, i dati non sono così facilmente reperibili, quelli che sono pubblicati solitamente sì, ma tutte queste altre informazioni invece magari dobbiamo andarcele a cercare. e dobbiamo andarla a cercare conoscendo anche quella che è la struttura della pubblica amministrazione, perché solitamente il dato viene pubblicato dalla pubblica amministrazione che lo detiene. E quindi se noi non sappiamo qual è la competenza di un certo ente, non possiamo andare a cercare magari nella sua sezione open data un dato che ci interessa. Oltre a questo ci servono alcuni strumenti. Io da informatica, lo ripeto spesso, quelli che utilizziamo e quindi che presentiamo anche oggi sono soltanto degli strumenti, delle cose che possiamo applicare per usare gli open data e quindi oggi presenteremo LibroOffice, ma insieme a LibroOffice anche altri software open source, ma da soli ovviamente ci servono pochi e sicuramente il limite minore che abbiamo nell'approcciarci all'open data sono proprio gli strumenti, quindi non dobbiamo farci spaventare dal fatto che magari non sappiamo gestire o leggere attentamente, accuratamente i dati con LibroOffice. Questo è il problema più piccolo in tutto quello che vi presentiamo oggi. Chiaramente serve passione, serve passione per questo lavoro e forse è per questo che ci sono ancora troppo pochi i giornalisti che fanno questa cosa perché è faticosa e quindi richiede interesse e passione, richiede lavoro. Dove troviamo gli ingredienti? Quindi dove troviamo gli open data? Esiste un portale a livello italiano che si chiama dati.govit e lì troviamo molti dataset che sono già pubblicati con possibilità di ricercarli, vedere quelli che sono scaricati di più e quindi avere anche una visione di quella che è la tendenza nell'uso di questi dati perché poi la tendenza a volte ma non sempre ci dice che magari un dato è più interessante di un altro. Abbiamo poi i portali open dati delle singole amministrazioni che solitamente si chiamano dati.ilnomedellaregione.gov.it ma non sempre si chiamano in questo modo. Abbiamo poi una sezione trasparenza nei siti delle pubbliche amministrazioni che è chiamata amministrazione trasparente in genere e che contiene anche qui non sempre solo dati aperti e quindi dati strutturati in formato tabellare se per open data intendiamo questo ma magari contiene molte altre informazioni che ci possono essere d'aiuto per leggere bene i dati aperti. E poi li possiamo trovare da motore di ricerca chiaramente usando la parola magica open data. Oltre a questo, che è un argomento che oggi non trattiamo perché non ce la faremmo, siamo troppo ristretti con i tempi c'è anche un'altra possibilità che è chiamata di data scrapping ho visto che su questo c'è un workshop specifico qui al festival che è un'ulteriore opportunità che ci consente di usare strumenti informatici che vanno a prelevare dei dati direttamente dai siti non da tutti perché ci sono alcune policy che vietano questa cosa in alcuni particolari siti però è una tecnica che si può utilizzare nel momento in cui non troviamo informato già pronto l'open data. Quali tipologie di dati possiamo trovare? Quindi in quale formato? Sicuramente uno dei formati che più si trovano pubblicati è il formato csv che è in realtà un formato testo, quindi è un formato testo con delle virgole che dividono i dati e aprirlo con LibroOffice è davvero estremamente banale cioè è sufficiente in questo caso scaricare il file, farci un clic destro, dire apri con LibroOffice e vedete qui è rappresentata una tabella, praticamente in genere LibroOffice capisce già qual è la struttura del dato e ve lo rappresenta all'interno di calc e quindi siete già ad un buon punto. Purtroppo si trovano anche dati pubblicati in formato chiuso, nel formato Excel, XLS qui ho riportato un'immagine dello zitto e urla perché sembra quasi uno simolo cioè se noi diciamo che il dato aperto è aperto nel momento in cui è rappresentato in formato aperto allora da questo segue che un dato pubblicato in formato chiuso non è open data però ne troviamo molti di dataset in questo formato questo mi spingerebbe ad un invito a segnalarlo perché questa è comunque una cosa che non va fatta e poi Italo nella parte finale spiega meglio anche perché possiamo trovare pdf possiamo trovare quindi dei dati pubblicati in formato pdf in questo caso a volte funziona anche un copy and colla proprio brutale ma non sempre funziona e quindi in questo caso si può ricorrere ad un altro software open source che è Tabula che solitamente vi consente di fare un buon lavoro è molto semplice da scaricare e installare perché ha semplicemente un eseguibile che si chiama tabula.exe che una volta aperto vi consente di fare l'upload del file pdf di aspettare un po' perché chiaramente a seconda della dimensione del pdf di quanto è il pdf complesso è ovvio se caricate un pdf di 120 pagine starete lì probabilmente una giornata intera e forse non otterrete nulla se invece caricate un pdf che è molto semplice con una struttura tabellare è quasi sicuro che Tabula riuscirà a farvelo avere in un formato leggibile da foglio di calcolo possiamo trovare ancora un altro formato che è il formato html qui ho riportato un esempio che è preso da un sito che ha utilizzato Data Ninja per una delle inchieste che fa è un blog che vi consiglio di seguire è un blog di Data Journalist e loro avevano preso dei dati riferiti ai beni confiscati alle mafie e li hanno presi perché questi dati sono pubblicati in formato html ma la tabella dove sono pubblicati è così semplice che funziona anche un copia e incolla diretto oppure si possono utilizzare altri strumenti per esempio loro sembra di ricordare che hanno utilizzato import.io che è un altro strumento che serve appunto a riprendere dei dati dalle tabelle pubblicate così quello che vediamo nella prima parte è l'uso di LibroOffice quindi LibroOffice in cucina perché LibroOffice è un pacchetto di programmi open source gratuito quindi scaricabile gratuitamente che mette a disposizione diversi strumenti tra i quali troviamo lo strumento per fare videoscrittura che è Writer lo strumento per gestire i fogli di calcolo che è Calc ma trovate anche uno strumento per creare presentazioni multimediali questa che vedete oggi l'abbiamo creata con Impress consente di creare poi dei oggetti più grafici quindi volantini, disegni, anche infografiche con draw e poi ha uno strumento di gestione database che è Base quindi è un pacchetto assolutamente completo di programmi da poter utilizzare è ovvio che noi utilizzeremo oggi quelle che sono le funzioni di Calc perché nel foglio di calcolo trovate la maggior parte delle cose che vi rendono più facile la lettura dei dati aperti il primo esempio che io ho preso l'ho preso dal Ministero della Salute che purtroppo il dataset ne ha pochi a disposizione io cercavo in verità qualcosa di più interessante ma mi è caduto l'occhio su un dataset che era curioso e che riporta il consumo di farmaci da banco cioè i farmaci da banco più consumati dagli italiani nell'ultimo semestre che può sembrare una stupidaggine però magari nessuno sa quali sono e quindi semplicemente scaricando questo dataset e facendo un grafico si ha la possibilità di vedere che siamo tutti un po' influenzati quindi usiamo molto la tachipirina, l'occhi, l'enterogermina, l'aspirina quindi in questo ultimo semestre si è ammessi così poi è probabile che essendo questo un dataset storico mettendo a raffronto i diversi dataset in diversi periodi dell'anno è probabile che otteniamo e andiamo a vedere che le abitudini cambiano o che sono cambiate magari nel tempo come si fa un grafico? il grafico da fare è semplicissimo è sufficiente selezionare i dati passare da una funzione che si chiama inserisci grafico seguire una creazione guidata che è questa qui che vi consente di scegliere il tipo di grafico di dare dei titoli per esempio all'asse delle x, all'asse delle y hanno un titolo al grafico di decidere se si vuole la leggenda oppure no e poi nella parte finale pubblicare il grafico è chiaro che i grafici solitamente vanno un po' anche riaggiustati e modificati ma se si parte da una buona selezione quindi sia chiaro che cosa si vuole rappresentare con un determinato grafico è molto probabile che il grafico venga da solo questo è un altro dataset quindi è un altro esempio di uso di un dataset più interessante sicuramente questo è stato ripreso dal registro italiano tumori poi nella parte finale diremo dell'open data che vorrei ecco a me piacerebbe avere un'open data vero sul registro tumori che ci consenta di capire quali sono magari le patologie più frequenti in quale zona geografica del paese perché questo ci aiuterebbe a capire molte altre cose il registro tumori che è pubblicato attualmente attraverso una piattaforma che si chiama Itacan vi consente di selezionare soltanto alcune tipologie di dato e quindi voi potete andare a vedere patologia per patologia ma non avere una cosa diciamo un dataset completo di tutte le patologie e poi andare a vedere quella che è l'incidenza, la mortalità i dati non sono aggiornatissimi questo che ho ripreso io 2009 e credo che sia il più aggiornato che c'è quindi capite bene che è un po' vecchiotto però che cosa ho fatto io con questo dataset? ho evidenziato alcuni numeri quelli che secondo me superavano una certa soglia quindi ho importato il dataset in calc e ho usato uno strumento che si chiama formattazione condizionata che ci consente di formattare quindi di colorare o comunque di avere in formato diverso alcune celle che rispondono a determinate condizioni e quindi io posso dire se questa cella supera i mille casi me la coloro in rosso perché questo? perché adesso qui avevamo un dataset abbastanza semplice ma capite bene che se io ho invece una banca dati più complessa è necessario che anche graficamente per la lettura quindi per una prima lettura io possa avere a disposizione uno strumento che mi aiuti a evidenziare qualcosa che per me è interessante qualcosa che per me è importante e qui posso aggiungere anche diverse condizioni colorare magari con colori differenti condizioni differenti altro dataset da notare che qui è pubblicato solo in formato Excel questo è l'elenco delle scuole del Piemonte che hanno connessione ad internet allora si parla molto di scuola digitale dell'importanza della presenza dei tablet a scuola un tablet per ogni bambino una LIM in ogni classe poi ci rendiamo conto che ci sono esistono molte scuole che non hanno la connettività o che hanno una connettività talmente tanto lenta che anche se avessero il tablet non ne farebbero alcun uso non ne potrebbero fare alcun uso e allora sarebbe interessante avere un dato certo di quelle che sono le scuole che hanno per esempio una connessione veloce in Piemonte è possibile farlo perché il dato c'è, è pubblico è anche abbastanza aggiornato e quindi con questo dato io che cosa posso fare lo posso importare in calc e posso applicare un filtro che mi consente di visualizzare di fare un elenco e vedere quali sono i nomi delle scuole che hanno una connessione a DSL o che hanno una connessione in fibra ottica e questa è un'informazione se ci pensate che può essere utile anche non solo al giornalista perché magari ci scrive un pezzo ma anche al genitore che deve iscrivere il proprio figlio a scuola e che non sa magari se la scuola dove andrà suo figlio ha una connessione oppure no quindi è un'informazione importante e che mi consente di avere e di distribuire un dato certo non l'abbiamo detto prima è ovvio che quando parliamo di open data a maggior ragione io devo avere un'attenzione particolare nel vedere che il dato provenga da una fonte che sia certa e che quindi sia una pubblica amministrazione non posso affidarmi a un dato magari pubblicato da un ente differente ci sono anche open data l'open data non è solo di pubblica amministrazione viene rilasciato anche da altri soggetti ma devo sempre verificare cercare di capire se la fonte dalla quale io prendo il mio dato è attendibile o no ancora un altro esempio un esempio sulla raccolta differenziata è un dataset preso da dati Lombardia IT quindi dalla regione Lombardia che ci consente per esempio di vedere provincia per provincia qual è l'ammontare della raccolta differenziata e quindi io qui ho utilizzato uno strumento che si chiama subtotale che in pochissimi secondi mi consente di fare una somma tenendo conto di alcune determinate colonne quindi dico quando cambia la mia provincia mi fai la somma degli abitanti conferenti e delle quantità questo io l'ho fatto con la somma ma qui sono a disposizione anche molte altre funzioni come possono essere per esempio la media, il massimo e il minimo anche funzioni statistiche quali la devianza, la varianza quindi posso fare in pochissimo tempo una cosa sicuramente che mi torna utile per la lettura del dato e sempre con il subtotale ho preso un altro dataset che è un dataset ambientale anche per farvi capire la differente tipologia questo l'ho preso dalle stazioni di monitoraggio di ARPA Umbria questa in particolare è la stazione che va a monitorare la qualità dell'aria in zona Ponte San Giovanni che per chi non è di Perugia è una zona particolarmente trafficata e quindi è una zona sicuramente da tenere sotto controllo e attraverso un subtotale io ho la possibilità per esempio di vedere quant'è la concentrazione media di PM10 sappiamo che questo ha per direttiva europea una soglia media che non può essere superata e quindi io attraverso un dataset non solo quello dell'ultimo semestre magari ma potrei fare una lettura storica dei dataset e andare a vedere se nel tempo quella soglia è stata superata quando è stata superata in quale zona della città e quindi da questo posso capire qual è la zona della città che è più inquinata e fornire così un'informazione interessante anche per chi legge perché se io dovessi comprare per esempio una casa magari potrei avere il desiderio di capire qual è la qualità dell'aria in quella determinata zona in cui ho idea di comprarmi una casa e di andare a vivere se i dati poi sono tanti fin qui sono esempi di dataset abbastanza semplici ma esistono anche di dataset molto più complessi io questo l'ho scelto perché oltre ad essere complesso va un po' interpretato perché va interpretato ora ve lo dico questi sono i dati riferiti agli interventi chirurgici fatti nelle strutture pubbliche e quindi qui io ho fotografato solo una parte del dataset il dataset è enorme perché chiaramente riporta i dati di diverse strutture pubbliche con i differenti reparti i numeri riferiti non soltanto al numero di interventi chirurgici ma anche magari al numero di ricoveri ai giorni di degenza media a quanti pazienti sono stati dimessi dopo un giorno quindi insomma è un dataset ricco di informazioni e allora in questo caso mi potrebbe tornare utile uno strumento che si chiama tabella PV che mi consente di rielaborare in maniera semplice un dato anche complesso andandolo ad analizzare e mettendo alcune informazioni in colonna altre in riga e nella parte centrale quello che è il dato vero e proprio e quindi in questo caso per esempio posso vedere reparto per reparto tipologia di intervento per tipologia di intervento sulla base provinciale qual è stato l'andamento e quindi posso andare a vedere per esempio qual è la provincia d'Italia dove sono stati fatti più interventi di chirurgia plastica oppure più interventi di chirurgia toracica da questo quale informazione ne potremmo trarre potremmo capire magari un'eccellenza in una città perché spesso le persone vanno nelle città dove si sa che c'è una buona struttura pubblica che fa un determinato servizio che presta un determinato servizio quindi questo ci dà questa informazione per ottenere questa cosa si utilizza questo strumento che è la tabella PV che fa tutto da sola chiaramente lo sforzo che devo fare io è quello di capire bene quali dati voglio rappresentare quindi quali dati riportare in colonna e quali in riga e quali nella parte centrale perché vi dicevo prima che ho preso questo come esempio perché in questo in questo caso particolare avete visto prima che io in riga ho portato le tipologie di intervento chirurgico sapete questa colonna come si chiama nel dataset si chiama provincia ora provincia io avrei detto così a occhio guardando il dataset pensavo che fosse la città in realtà no questo perché perché magari la persona che ha costruito questo dataset il termine provincia lo utilizza in un contesto differente e quindi provincia è riferito alla tipologia di intervento quindi è necessaria sempre prima una lettura attenta del dataset una comprensione delle colonne che solitamente sono spiegate in un file a parte che va a descrivere la struttura tabellare del dato che viene pubblicato e che io non posso far finta di non aver letto cioè non posso non posso non andare a leggere perché mi dice quello che quel dato rappresenta c'è il famoso caso di un dataset che era stato pubblicato con una colonna che si chiamava Matteo magari perché in quel momento chi l'ha costruito in quel Matteo aveva anche un suo significato però va a capire insomma quello che poteva essere quindi è sempre necessaria una lettura attenta per capire la tipologia del dato e per vedere anche se i dati che sono rappresentati sono in formato corretto cioè se sono dati in formato data devo vedere qual è il formato della data e se quel formato è uniforme per tutte le righe almeno dando un'occhiata perché questo perché altrimenti rischio di tralasciare delle informazioni quindi rischio di dare un'informazione non corretta pensate se ho una colonna in porto e quella colonna in porto non è in formato numerico facendo un subtotale o facendo una tabella pv potrei avere un dato numerico che va a lasciare alcune righe perché quelle righe magari sono in un formato testo capisco che questa parte è più di interesse della pubblica amministrazione cioè questo lavoro dovrebbe essere fatto prima dall'amministrazione che pubblica il dato perché il dato deve essere pubblicato già così cioè il dato deve essere pubblicato corretto aggiornato informato giusto però sappiamo che esatto questo è un po' un mondo dei puffi e che quindi non ci possiamo sempre fidare per cui dobbiamo avere sempre una estrema attenzione e lascio adesso la parola ad Alfredo che invece vi fa la parte che è riferita più alla rappresentazione dei dati quindi dopo l'elaborazione è sicuramente necessaria una rappresentazione grafica del dato che ci serve ad interpretarlo e a leggerlo ancora meglio sì allora buonasera a tutti prima allora in realtà volevamo cominciare con far vedere proprio una demo reale di come si elaborano dei dati però siccome abbiamo poco tempo a nostra disposizione abbiamo deciso di utilizzare delle slide e quindi cercare di spiegare quantomeno la forza di ogni applicativo che è citato in questa parte quindi come diceva prima Sonia il problema è che i dati possiamo anche trovarli però per un comune mortale ora lasciamo stare i nerd lasciamo stare gli informatici lasciamo stare le persone che comunque lavorano ogni giorno con il computer o hanno delle conoscenze il problema di fondo è che bisogna disegnare bisogna comunicare bisogna illustrare un dato da un'informazione quindi a open data a un grafico o una mappa o comunque qualcosa che il comune mortale ripeto o la persona perché no di 40 50 60 70 anni vuole magari essere a conoscenza di quel dato per cui in questa parte noi illustreremo una parte dedicata all'elaborazione dei dati oltre a LibreOffice di cui già vi ha parlato Sonia farò una leggera citazione definiamola così a OpenRefine che è un applicativo molto importante e potente che in origine venne sviluppato da Google tra l'altro vedo che Google è sponsor del festival del giornalismo per cui giochiamo in casa mentre per la parte dell'elaborazione dei grafici ho deciso di scegliere PlotLight e DataWrapper mentre per la parte riguardante le mappe Mapbox ci sono penso centinaio più o meno forse anche più di applicativi che permettono di creare sia grafici che mappe io ho fatto questa breve selezione perché questi applicativi sono disponibili online per cui basta semplicemente una connessione internet e un browser web per accedere a questi siti e poi perché sono molto facili ed intuitivi per cui anche qui non c'è bisogno del bagaglio culturale di tipo informatico ma uno pian piano facendo magari qualche prova o seguendo già gli esempi dei dataset presenti sui portali può pian piano creare la propria mappa personale o il proprio grafico allora quindi come vi dicevo OpenRefine era prodotto da Google ora è mantenuto dalla comunità che ha deciso di continuare lo sviluppo per cui hanno cambiato il nome da Google Refine OpenRefine è finalizzato al data cleaning per cui viene utilizzato quando un'informazione quindi prima di essere un open data o un open data stesso ha bisogno di elaborazioni ha bisogno di essere pulito letteralmente perché come faceva vedere Sonia ci sono purtroppo in giro centinaia migliaia di dataset che vengono spacciati per dataset ma in realtà non lo sono perché c'è generalmente nella pubblica amministrazione ahimè c'è questa corsa a pubblicare l'open data cioè c'è stato un periodo che in Italia si faceva la gara a chi pubblicava più open data perché come diceva prima Sonia l'open data che io pubblico sul mio portale della regione Umbria dopo viene collegato con il portale nazionale di open data che è dati.gov.it per cui se voi andate su dati.gov.it c'è un filtro sulla colonna sinistra in cui riporta la numerazione di ogni ente un periodo c'è stato che le pubbliche amministrazioni anche piccolissimi comuni facevano questa corsa per cui tutti i file excel presenti sui computer dei dipendenti venivano pubblicati senza guardare se magari rispettavano la privacy il segreto vabbè queste sono storielle diciamo così venivano caricati e basta per cui tutto questo è sbagliato quindi volevo partire con un esempio di un dataset trovato online ora vi farò vedere e un'altra cosa importante di OpenRefine è che utilizza comunque un linguaggio per cui ci sono delle funzioni già impostate per cui è possibile accedere tramite un menu oppure ci sta il buon vecchio codice che OpenRefine usa questo grell che però diciamo è una cosa molto facile cioè fa semplicemente dei controlli sui valori che non non entro nella sfera informatica e permette di fare diciamo delle trasformazioni complesse ora ho deciso di prendere un open data dalla città di Firenze in cui mostra i luoghi di interesse dei teatri il problema di fondo è che questa risorsa disponibile in csv quindi benissimo leggibile dalle macchine ma delle colonne duplicate perché ci sono sia le scritte in italiano che le scritte in inglese io però mi sento un po' ci sentite così lo stesso però ok vabbè scusate ma mi sento ok meglio benissimo scusate le spalle la cosa importante è questa nome name descrizione short description url città siti indirizzo numero civico eccetera 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 perché ma circa 25 colonne questo open data per cui io ho semplicemente reimportato il nostro dataset in open refine questa qui vedete che c'è ancora il logo di google e poi pian piano sono andato a lavorare su questo open data quindi ho deciso di prima di tutto eliminare le colonne duplicate italiano e inglese perché questo qui il problema dell'open data è che veniva sicuramente esportato da un sito da un gestionale da un app da un qualcosa che il comune di Firenze aveva ed è stato caricato così nudo e crudo sulla piattaforma questa è una cosa sbagliata che nessuno dovrebbe fare però purtroppo ogni giorno ce ne sono diversi poi dopo l'eliminazione delle colonne duplicate ho deciso di nominare alcune intestazioni di colonne perché il sito web lui me lo chiamava url ora se io sono uno smanettone so che cosa significa url ma la signora sa cosa significa url no ok quindi sito web sicuramente può aiutare tutti poi ho deciso di trasformare le celle naturalmente facendo diciamo scrivendo in lingua italiana e non scrivendo o tutto maiuscolo o maiuscolo e minuscolo o un po' così come capitava quindi ho utilizzato una funzione che mette già a disposizione in cui vado a fare edita le celle faccio una trasformazione comune e gli dico di trasformare tutto a title case questo lo possiamo anche diciamo trasformare sia tutto in caratteri maiuscoli oppure tutto in caratteri minuscoli questa cosa qui diciamo va a formattare la colonna in una maniera scritta io la definisco in lingua italiana perché purtroppo c'è un abuso di maiuscolo sul web che è impressionante poi ho deciso di fare un altro passaggio cioè di andare ad unire le due colonne la prima colonna che ha l'indirizzo la seconda colonna che ha il numero civico ho deciso di fare questa cosa qui perché poi qualora volessi rielaborarlo in una piattaforma che mi va a posizionare quindi con dei pallini su una mappa questi teatri qui in questo modo il parsing quindi il sito che riceve questi indirizzi qui diciamo è più facilitato a leggere in una sola colonna l'indirizzo del teatro del comune di Firenze poi andando ad unire queste due colonne diciamo mi sono fermato qui ma in realtà potevo fare tante altre cose una volta arrivato qui posso fare un export quindi posso esportare questo dataset lo posso esportare in csv in tsv in xls e in ods l'ods naturalmente potete vedere che è in grassetto perché è lo standard per definizione di questo poi ne parlerà Italo quindi io cerco di andare velocemente passando invece dall'open data ai grafici ho deciso di selezionare questo applicativo qui perché mi è piaciuta molto la diciamo l'opzione della modalità collaborativa di cui mette a disposizione plotly cioè questo che cosa significa che se io voglio creare oggi un grafico e do dei dati scientifici come in questo caso una persona Sonia o chiunque voglia modificare questi dati può andare a fare in gergo un fork cioè partire dal sorgente di questi dati qui e fare una rielaborazione questa rielaborazione la può fare magari io voglio scrivere un articolo questa rappresentazione grafica non mi piace vado a fare un fork di quello che trovo su questo sito e mi cambio semplicemente utilizzando i template che metto a disposizione questo sito a fare altre rappresentazioni oppure se voglio aggiungere modificare altri dati posso farlo tranquillamente per cui questa applicazione è consigliata diciamo così per chi volesse fare dei lavori a più mani oppure cioè in modo tale da essere pubblico in modo tale che ognuno di noi può dare il proprio contributo poi ho deciso di prendere un'open data della regione umbia per cui in un'altra vita qualche mese fa mi sono occupato del portale open data della regione umbia ho deciso di prendere questo dataset che si chiama servizi educativi per la prima infanzia in cui ci sono dati anagrafici numero totale di bambini accolti al 15 dicembre di ogni anno suddivisi per categorie informazioni sintetiche riguardanti periodi di apertura spazio e struttura presenti meccanismi di graduazione ok il foglio di calcolo è illegibile ve lo dico così anche se l'abbiamo caricato però è illegibile utilizzando lo strumento che vi ho fatto vedere prima otteniamo questo grafico qui ma questo grafico qui è un grafico interattivo cioè che cosa significa che io ho la possibilità di esportarlo sia sui social network che sia come oggetto embedded ovvero qualora andassi a scrivere un articolo sul mio blog o su un giornale posso copiare questo pezzettino di codice e incollarlo lì se io col mouse mi sposto su una colonna di questo grafico vedo in tempo reale tutti i risultati cioè tutti i valori che aveva prima l'open data che era scritto in formato testo ma l'altra cosa fantastica è questa che posso filtrare i risultati per cui io da questa parte ho vediamo se ci leggo nido di infanzia spazio giochi centro bambini bambine nido aziendale eccetera eccetera da quest'altra parte filtro e visualizzo solamente spazio gioco e nido aziendale dei comuni della regione dell'Umbria per cui tutto questo sempre in maniera dinamica poi l'altro strumento è data trapper ho riportato semplicemente qualche qualche marchio giusto marchio chiamiamolo così azienda qualche testata che utilizza questo strumento qui e anche questo applicativo l'ho selezionato perché in realtà attraverso quattro passaggi permette di ottenere un grafico per cui anche qui non c'è bisogno di conoscere codici non c'è bisogno di essere smanettoni ma abbiamo bisogno di una connessione internet del nostro browser possibilmente non internet explorer perché quello dovrebbe morire a breve spero presto e naturalmente dell'open data vero e proprio quindi del dato dell'informazione che vogliamo andare a rappresentare non ho preso nessun dataset in questione perché ho deciso di utilizzare i template già presenti sulla piattaforma in modo tale da capire prima il funzionamento dell'applicativo diciamo e poi eventualmente di crearne uno nostro qui ho preso un grafico a linee dove fa vedere le percentuali di import export tra Stati Uniti e Regno Unito e potete vedere che qui sono realmente quattro passaggi cioè carica dati seleziono il file e faccio l'upload verifica e descrivi mi serve per scrivere il titolo del grafico la sorgente del grafico con il relativo link e diciamo da chi è stato creato perché DataDrapper metterà comunque una dicitura perché essendo una cosa gratuita naturalmente dobbiamo aiutare la comunità per cui è anche giusto direi il minimo mentre su quest'altra parte ho voluto riportare anche se ancora in beta l'utilizzo di cioè quindi la creazione di mappe utilizzando DataDrapper in questo modo io sono andato con il puntatore del mouse su la leggenda qui e lui mi ha automaticamente esploso gli stati che rientrano diciamo in quel range della leggenda ma in realtà il software secondo me chiamiamo l'applicativo numero uno per creare le mappe si chiama Mapbox e il numero uno perché semplicemente perché viene utilizzato da Foursquare da Evernote da Pinterest da Github eccetera eccetera quindi se multinazionali lo utilizzano significa che comunque è un applicativo valido ed è il caso di iniziarlo ad usare Mapbox permette l'importazione di CSV di GeoJSON di KML e GPX in realtà questi sono gli ultimi tre sono formati in cui ci sono le coordinate siccome noi dobbiamo posizionare un qualcosa su una mappa abbiamo bisogno di latitudine e longitudine e invece il CSV è testuale però deve contenere comunque le latitudine e longitudine ok in questo caso ho preso una risorsa in GeoJSON che è la rappresentazione degli hotspot wifi in Umbria sempre dal portale della regione Umbria ed avevo questa cosa qui che è fantastica però in realtà a me interessa poco questa cosa qui perché io voglio vedere dove posso trovare gli hotspot wifi in regione Umbria perché quest'estate decido di fare un tour in regione Umbria ve lo consiglio tra l'altro e quindi io ho fatto semplicemente apro upload seleziono il template della mappa in questo caso è questo grigiume chiamiamolo così poi ho definito la W su ogni hotspot wifi le ho impostato il colore del puntatore ed ho creato la mia mappa quindi se il dato di origine è fatto bene ci vogliono sul serio due minuti e mezzo tre tre e mezzo ma la stessa mappa ho deciso di farla utilizzando un template che si chiama pirati perché mi ispirava la tipologia della mappa e anche qui ho semplicemente cambiato diciamo il puntatore ed il colore quindi una volta ottenuta una mappa del genere io posso esportarla sempre o sui social network oppure come oggetto embedded in modo tale da reimportarlo in blog siti ed altro non abbiamo messo sotto forma di testo il link a questi applicativi però scusate torno un attimo indietro sulla lista della spesa all'inizio su ogni applicativo c'è comunque l'url sotto per cui penso che poi queste slide saranno pubblicate da qualche parte oppure le pubblicheremo sicuramente sullo slide share di Libri Italia perfetto ok grazie per me questo è tutto prego allora io parlo degli aspetti più noiosi e d'altronde come si compete a quello più vecchio parla delle cose più pallose questo è abbastanza evidente parlo degli aspetti di tipo della licenza e parlo dei formati che sono due aspetti quasi sempre ignorati perché dovrebbero essere insegnati e nessuno li insegna nessuno di noi può pensare di sapere qualcosa delle licenze che vanno applicate ai documenti né del formato dei documenti se non gli vengono spiegate le caratteristiche di questi due aspetti partiamo dalle licenze che sono la cosa più facile anche perché intorno a creative commons c'è stato un certo dibattito e quindi molti sanno di che cosa si tratta creative commons non è altro che la traduzione in la semplificazione e la traduzione in un linguaggio accessibile agli esseri umani di quelli che sono i contenuti delle licenze normali scritte dagli avvocati non me ne vogliano gli avvocati se sono presenti in questa sala ma quasi sempre le licenze sono scritte in modo piuttosto criptico e chiaramente siccome i documenti li facciamo tutti non li fanno solo gli avvocati è bello che chi utilizza una licenza capisca anche che cosa dice questa licenza se lui la mette su un suo documento quindi le creative commons sono qualcosa che aiuta gli utenti a fare una cosa che tutti gli utenti dovrebbero fare quando pubblicano un documento che è quello di mettere una licenza sul documento stesso perché questa licenza protegge sia chi distribuisce il documento sia chi prende il documento attinge al documento per riutilizzarne nei contenuti proprio perché la licenza definisce esattamente quello che vuole condividere l'autore e quello che può condividere l'altra persona quindi le creative commons creative commons sono hanno una serie di caratteristiche che chiaramente vanno dalla più restrittiva che significa che io devo comunque attribuire il contenuto all'autore precedente non posso farne ricavarne farne derivati commerciali quindi non posso per esempio farne una presentazione che viene utilizzata per vendere un prodotto e non posso derivarne quindi non posso prendere la singola slide e metterla dentro un altro oggetto posso prendere solo tutta la presentazione e riutilizzarla in un altro contesto questo sì ovviamente citando la fonte si arriva poi all'ultima che è quella solo dell'attribuzione esiste anche poi la licenza cc0 che è la licenza più libera che è quella che comunque sancisce la paternità del file originale ma consente qualsiasi tipo di elaborazione successiva compresa la non attribuzione questo normalmente si si utilizza quando l'attribuzione è estremamente semplice per esempio tutti i documenti che vengono gestiti dal progetto a cui noi tre facciamo riferimento che è il progetto di LibreOffice sono chiaramente identificabili quindi in molti casi l'attribuzione è ridondante quindi dire lo ha fatto il progetto quando c'è già il logo di LibreOffice è semplicemente ridondante se non ci fosse questo logo dovrebbe essere comunque detto perché è una diciamo è una semplice simmetria di attribuzione utilizzo che da riconosci i diritti dell'uno e offre i diritti all'altro perché la licenza in realtà molti una delle obiezioni che mi viene fatta è dire ma se io ci metto la licenza poi gli altri non possono usarlo no è esattamente il contrario se io metto la licenza tu consenti agli altri di utilizzarlo perché perché utilizzandolo perché rifacendosi alla licenza sapranno cosa possono utilizzare e come possono utilizzarlo se io non metto la licenza in teoria tu non potresti utilizzare nessun documento questo lo ignorano tutti però è così per esempio le foto su Flickr ci sono molte foto che hanno la licenza Creative Commons e ce ne sono molte che non hanno la licenza se non c'è la licenza quella foto in teoria non si dovrebbe assolutamente utilizzare bisognerebbe scrivere all'autore e chiedergli di rilasciarla con licenza oppure di scrivere tu puoi tu nome cognome puoi utilizzare questa foto per utilizzi commerciali non commerciali siccome ovviamente tutto questo passaggio è complicato sarebbe auspicabile che gli autori rilasciassero con licenza tutte le loro fotografie non è necessario attribuirla a ciascuna fotografia basta mettere nel proprio profilo che tutte le foto rilasciate sono con licenza Creative Commons e quindi uno taglia la testa al toro io per esempio sui miei blog ho scritto che tutti i contenuti sono con licenza Creative Commons quindi non è che uno deve scrivermi ogni volta se vuole riutilizzare sarebbe una roba mostruosa però è opportuno che questo venga fatto le Creative Commons sono andate avanti adesso queste sono le cinque versioni l'ultima è la 4.0 per chi è curioso le vado a vedere io quello che vi consiglio è quello comunque di utilizzare l'ultima versione che ha dei vantaggi perché perché chiaramente le Creative Commons sono nate negli Stati Uniti a Stanford da Lawrence Lessig di fatto e dal gruppo dei legali che fanno capo a Lawrence Lessig sono nate con una forte cultura statunitense una forte cultura americana per quanto Lawrence sia una persona molto aperta però ovviamente ha una cultura anglosassone e una cultura soprattutto legale con un background americano che è profondamente diversa alla nostra cultura legale che è basata ancora purtroppo sul diritto romano per quanto fosse eccellente però noi in 2000 anni non siamo riusciti come dire a scardinarci dal diritto romano e andare in alcuni casi a un diritto che sia più moderno come vedremo sugli standard siamo a 4000 anni quindi in realtà sul diritto abbiamo ancora 2000 anni possiamo andare avanti ancora per 2000 anni perché comunque prima che ci mettiamo in pari noi ci muoviamo lentamente quindi la Creative Commons 4.0 ha delle forme di interoperabilità con le altre licenze quindi riconosce le varie licenze sui documenti che vengono rilasciate da alcune legislazioni perché ci sono alcune legislazioni che includono all'interno del diritto privato delle licenze sui documenti quindi Creative Commons 4.0 è compatibile con queste licenze permette una compatibilità in prospettiva quindi se voi rilasciate con Creative Commons 4.0 sarà compatibile con la 5.0 con la 6.0 e così via e questo dovrebbe in molti casi auspicabilmente sono state la 4.0 è stata rilasciata nel 2014 dovrebbe risolvere alcuni problemi che ci sono stati con i governi con alcuni governi e con alcune istituzioni pubbliche che non vogliono rilasciare i propri documenti con licenza nel senso che vogliono attribuirsi tutti i diritti probabilmente chi fa così all'interno dei governi e delle istituzioni pubbliche perché non si è letto la licenza Creative Commons se la leggesse capirebbe che sarebbe molto meglio che anzi i suoi diritti sarebbero più tutelati dall'uso della licenza che dal non uso della licenza però purtroppo in quest'area specifica l'ignoranza proprio delle leggi e dei riferimenti è un dramma a tutti i livelli e poi c'è una questione di internazionalizzazione proprio perché appunto riconosce le farraginozioni in alcuni casi della legislazione europea molto più complessa della legislazione americana e così via comunque la fortuna il bello della Creative Commons è che è una pagina quindi se ve la volete andare a leggere andate sul sito Creative Commons ve la guardate è la cosa migliore perché uno si fa proprio un'idea di quello che dice è scritta in linguaggio umano cioè il problema quello che è stato compreso e su questo devo dire la cultura anglosassone americana di Stanford aiuta molto è proprio quella di tradurre il legalese in un linguaggio comprensibile agli esseri umani quindi non ci sono le forme convolute che voi trovate nelle in molti dei per esempio se voi andate a vedere il codice dell'amministrazione digitale italiano io ho fatto parte di una commissione dell'agenzia per l'italia digitale che doveva fare il regolamento applicativo perché perché il regolamento è talmente complicato che poi ci vuole un gruppo di 18 esperti che fa il regolamento applicativo che è veramente assurdo perché la legge dovrebbe essere autoesplicativa cioè adesso posso capire alcuni vizi di interpretazione su cose che sono magari più specifiche ma dovrebbe non dovrebbe consentire n.mila interpretazioni la legge italiana purtroppo consente n.mila interpretazioni che sono che vanno da un estremo all'altro cioè vanno da più infinito a meno infinito e quindi dall'interpretazione totalmente possibilista a quella che è totalmente negazionista quindi voi andate dal si può fare tutto a non si può fare niente leggendo lo stesso articolo quindi va bene creative commons non è così semplifica molto riesce a far capire in poche parole poche frasi quello che vuole dire e quindi questo è uno dei motivi per cui viene caldamente consigliato da un lato e dovrebbe essere utilizzato da tutti e il mondo del giornalismo che produce un'ira di dio di contenuti d'altronde si è giornalismo io sono giornalista dal 79 per questioni di età non cioè semplicemente perché ero già grande all'epoca e quindi dovrebbe imparare le testate dovrebbero imparare a rilasciare i contenuti con una licenza che non ha nulla a che vedere col diritto d'autore eccetera perché la licenza il diritto d'autore è legato all'autore del singolo pezzo la licenza permette di prendere il singolo pezzo di trasformarlo in una fonte che può essere riutilizzata da altri non è che io vado a invalidare il diritto d'autore del giornalista singolo che ha scritto il pezzo ma in questo modo posso utilizzarlo come fonte dicendo così come sono autorizzato scusate dal Corriere della Sera ipotizzo a citare l'articolo del Corriere della Sera perché se no facciamo citazioni che devono essere di volta in volta citazioni di tipo bibliografico che onestamente non ha senso cioè pensate un articolo di giornale che si conclude con una bibliografia sarebbe diventerebbe leggibile quindi alla fine si omette la bibliografia ma in realtà stiamo facendo un dispetto a chi ha costruito il percorso di lettura o contenutistico di quel pezzo quindi l'ultimo dicevo la cosa più più liberale è la CC0 quindi liberi tutti dovete solo riconoscere la paternità di quello che a voi avete è chiaro che per esempio nel in alcuni ambiti questa qui vi risolve un sacco di problemi soprattutto su alcuni siti su alcune cose perché perché se voi andate ad aggiornare i siti e cambiate i link dovreste ogni volta andare a rivedere le licenze in funzione dei link che mettete dentro a questo punto mettete CC0 e qualsiasi link che voi mettiate sapete che comunque deve essere riconosciuta la paternità originale del documento ma poi sono liberi di prenderlo e di utilizzarlo e adesso andiamo alla parte più complicata quella degli standard dirò alcune cose che vi sembreranno fuori dal mondo tutto quello che vi dico può essere provato il problema purtroppo e che per provarlo vi devo intrattenere amabilmente per circa 6-8 ore su una serie di leggi legislazioni cavilli eccetera che sono dietro a ciascuna delle cose che dirò allora queste qui voi pensate che non siano standard sono tutti standard la differenza enorme e io la metto apposta è perché questi sono standard hardware lo standard hardware vi costringe al rispetto dello standard in questo senso dietro a queste prese c'è sempre un 110 un 220 un 240 50 60 hertz quindi qualsiasi cosa voi infilate nella presa oggi non brucia non salta non va a fuoco eccetera quando io ho usato il mio primo personal computer 1981 il personal computer aveva un'alimentazione non switching da 110 volt 50 hertz e quindi aveva un variac che era grosso quanto il personal computer che mi permetteva tutte le mattine di portare perché lo usavo in Italia la tensione da 220 a 110 un giorno è arrivato un collega americano che non sapeva di questa cosa qui ha acceso il computer senza accendere il variac il computer ha fatto un simpatico puff dopo una quindicina di minuti e lo abbiamo fatto anche il funerale perché era l'unico che c'era in quel momento nell'azienda in Italia però e questo è quello è il tipo di standard a cui doveva stare attento chi ha la mia età voi avete la fortuna i giovani hanno la fortuna di avere standard che sono voi oggi avete tutti i alimentatori del telefono cellulare ormai praticamente sono ridotti a due perché perché c'è un'azienda che non si che non vuole riconoscere l'uso degli standard che è Apple dirlo con un computer Apple davanti è un po' così però lo so è come dire non uso il telefono che non usa questo qui usa più o meno delle cose più standard dell'iPhone l'iPhone utilizza un connettore non standard tutti i telefoni gli altri telefoni utilizzano un connettore mini USB che adesso vi permette se vi dimenticate il vostro alimentatore di andare in ufficio o di andare dove siete e chiedere al vostro vicino mi dai il tuo alimentatore perché io non ho il mio e tutti possono alimentare il proprio telefono un tempo non era così i Nokia avevano lo spillo i Samsung avevano il pettine eccetera quindi era un disastro però noi non pensiamo allo standard hardware ci adeguiamo perché lo standard hardware ha una forma che ci costringe il problema sono gli standard software allora questa immagine viene allora mi avevano invitato a un evento dove che diceva parliamo di standard e poi mi hanno mandato questa immagine che doveva essere secondo loro come dire il l'esemplificazione grafica degli standard allora qui dentro di standard ci sono solo HTML PDF e JPEG sono tre standard uno aperto HTML uno aperto non proprietario uno aperto proprietario PDF uno proprietario e standard de facto ma che è quello che è il JPEG che è il Joint Photographic Esper Group standard riconosciuto in un'area dove non esistono standard ISO non esistono standard ISO o non esistevano all'epoca adesso il PNG è semi riconosciuto ma all'epoca non esistevano standard ISO e quindi si andava sugli standard di riconosciuti per validità il JPEG è un ottimo formato che ormai è riconosciuto come standard tutti gli altri sono formati non standard e adesso cercherò di ma molti di voi sono assolutamente convinto che se che pensano che DOCX, LS, PPT siano standard a io un po' meno perché Adobe Illustrator uno pensa ma sì ma poi non lo usa tanta gente quello i formati di Microsoft Office devono essere uno standard ecco è esattamente il contrario tutti i formati di Microsoft Office non sono standard neanche quelli che teoricamente dovrebbero essere standard peraltro c'è una chiara tendenza alla crescita dell'adozione degli standard questo perché gli standard hanno dei difetti gli standard aiutano le persone a scambiare documenti ragionare su una stessa base ma ovviamente gli standard sono vincolanti vi faccio un esempio banalissimo le word art sono che che vi permettono di far mettere che so il vostro nome le usano tantissimo i ragazzini che fanno le ricerche a scuola perché fanno la prima pagina tipicamente c'è il nome che va su un'onda una roba del genere bellissimo allora quella roba lì non potrà mai essere standard mai quindi il professore dovrebbe dirgli hai fatto una cosa fantastica sappi che se lo vuoi dare al tuo compagno quella roba lì dovresti evitarla il problema purtroppo è che il professore non sa neanche perché quella cosa lì non dovrebbe essere fatta e non riesce assolutamente a spiegarlo in termini comprensibili al suo studente quindi purtroppo qui siamo in situazioni estremamente siamo molto indietro io in teoria non dovrei essere un esperto di standard lo sono diventato perché quelli che in teoria sono esperti di standard sono più ignoranti di me sugli standard e questo è terrificante veramente io ho avuto di fronte ho parlato con esperti di standard di grosse aziende multinazionali del mondo del software del mondo dell'hardware che a un certo punto iniziavano a guardarmi con gli occhi che un po' persi mi dicono ma lei come fa a sapere queste cose allora la ricetta funziona da 4 mila anni basta studiare io mi sono letto un botto di roba se questi che sono responsabili degli standard non leggono e chiaramente hanno solo responsabili a stanza non solo sul biglietto da visita oltre il biglietto da visita non vanno ma ripeto aziende molto grosse leghiamo la questione degli standard all'innovazione chiusa e aperta noi pensiamo chiaramente il mondo dell'innovazione chiusa ha avuto un suo ruolo nella storia perché perché nel momento in cui la condivisione dei contenuti era molto complicata era ovvio che era molto più semplice fare innovazione all'interno di singoli laboratori io negli anni 80 le aziende dicevano una fesseria che era tutti quelli più bravi che fanno una cosa li assumiamo noi questa è una fesseria mostruosa perché non puoi pensare di assumere tutti i più bravi su una cosa perché insomma fossimo 200 nel mondo ok ma su all'epoca eravamo 5 miliardi difficilino insomma dire che tu assumi tutti i più bravi quando è venuto fuori internet che è partita non casualmente dai laboratori di ricerca è partita anche dal mondo della difesa ma sicuramente dalle università le università hanno iniziato a collaborare perché si sono rese conto della enorme potenzialità di condivisione data dalla rete mandare email negli anni 80 era molto più complicato di quello che è oggi però si riusciva a condividere un testo con una persona che stava in un altro continente perché immaginatevi se no dovevate mandargli un fax e questo doveva ribattersi il testo non c'era altro modo quindi mandarsi email negli anni 80 era complicatissimo però perlomeno ti arrivava un testo un txt che tu riuscivi a prendere modificare e rimandare indietro era una forma di collaborazione estremamente arretrata rispetto a quella a cui siamo abituati oggi ma ha cambiato la vita della ricerca oggi nel mondo della ricerca parlare di innovazione chiusa cioè fatta in una singola università in un singolo laboratorio in un singolo qualcosa è praticamente impensabile nessuno nel mondo per esempio della ricerca medica vi potrebbe dire che se la sperimentazione viene fatta in almeno due o tre continenti ha validità quindi siamo passati da un'innovazione chiusa a un'innovazione aperta è ovvio che nell'innovazione aperta gli standard aiutano a creare una piattaforma di riferimento che è quella che ci permette di ragionare su alcune cose che sono sempre le stesse perché sono state definite quindi la cosa infatti cosa dicono cosa dice un laboratorio o un'azienda che fa innovazione aperta non dice più quelli più bravi lavorano tutti per noi ma lavorano tutti con noi e da questo ne derivano una serie di altre conseguenze che non vi sto a leggere per non tediarvi non vi tedio neanche con queste brillanti dichiarazioni di Bill Gates che praticamente dicono non dobbiamo assolutamente fare nulla che sia standard perché se i nostri software supportano gli standard significa che non ci saranno più motivi che costringeranno le persone ad acquistare i nostri software quindi in alcuni casi i software non gestiscono in modo sbagliato gli standard in modo intenzionale cos'è un formato standard un formato standard intanto è sviluppato da un ente neutrale non può essere sviluppato da una singola azienda se è sviluppato da un'azienda deve essere preso da un ente che lo trasforma in standard non magari è perfetto ma ci vogliono degli esperti di standard che lo gestiscono deve essere costruito come standard aperto quindi non ci possono essere componenti proprietari deve avere un'implementazione nativa libera questo nel mondo del software è fondamentale perché perché se io nel mondo del software creo un formato un documento che deve rispettare uno standard devo avere la possibilità per fare le verifiche di farlo con un qualcosa che sia libero perché se io per fare le verifiche sono costretto ad acquistare un'applicazione ritorno al problema del non standard cioè per fare la verifica del formato torno in un ambito che non è standard aperto ultima cosa deve essere agnostico verso l'utente questo è fondamentale cioè l'utente quando salva un formato standard deve essere tranquillo che il formato è standard non deve avere lui la discrezionalità che se fa qualcosa o se sei vas ma in un formato particolare quel documento non è standard quindi capisco che è tutto abbastanza purtroppo noiosetto però è fondamentale che capiamo quali sono gli standard perché se no rimaniamo alla situazione attuale dove abbiamo un'interoperabilità finta che è basata sui non standard naturalmente i standard aperti si portano i contenuti aperti perché perché se è aperto lo standard i contenuti automaticamente saranno aperti perché sono descritti in un formato pubblico in un formato che anche se non ho un software uno i software ci sono ma anche se non ho il software ho la possibilità di interpretarlo in quanto mi viene fornita la semantica del dato sottostante e adesso facciamo degli esempi un po' visuali allora questo è un doc punto doc sostituendo il punto doc in punto txt questo è quello che voi leggete allora quando dicevo i 4.000 anni allora questo documento che voi vedete alle mie spalle ha la stessa valenza semantica dei primi documenti cuneiformi degli ittiti cioè o ho appollaiato sulla mia spalla il signore che lo ha scritto o io non so cosa c'è scritto quindi ovviamente gli ittiti avevano quello che diceva no con questo io volevo dire questa cosa qui fantastico però il motivo per cui poi è venuta fuori la calligrafia è perché i caratteri cuneiformi erano leggerissimamente poco pratici il documento deve essere un contenitore quindi se voi prendete un documento standard e lo sono tutti documenti compressi in realtà voi avete vedete una desinenza che è come abbiamo detto ods odt eccetera ma in realtà è un punto zip se voi sostituite alla terminazione dello standard il punto zip e scompattate il documento in realtà vi viene fuori una cartella che ha dentro a sua volta dei documenti e tra questi ce n'è uno che si chiama content xml allora è scritto molto piccolo ma voi vedete sulla sinistra avete il documento sulla destra avete i paragrafi del documento che sono dentro in mezzo a tag che dicono paragrafo 1 paragrafo 2 paragrafo 3 quando dicevo la semantica sottostante dicevo questo voi non sapete come leggere quel documento lo scompattate i contenuti ci sono è questo quello che contraddistingue un formato non standard da un formato standard ovviamente cosa significa che un formato standard non costituisce un vantaggio competitivo perché perché tutti quelli che possono infatti perché il formato di libreoffice che è il formato open document format è supportato da 140 software perché avendo una descrizione pubblica diventa facile supportarlo e quindi non diventa più un vantaggio competitivo dire io sono compatibile con quel formato anzi più sei compatibile meno il vantaggio c'è per il singolo software maggiore il vantaggio per l'utente che ha n a questo punto n centinaia di software che riescono a leggere lo stesso formato quindi il motivo per cui ODF è la scelta che permette di scegliere è esattamente questo qui l'interoperabilità chiaramente sgancia il contenuto dal software e l'interoperabilità qui ci sono una lista poi non ve li sto a guardare ma se volete sapere cosa sono tutti i formati andate a vedere dove pubblichiamo le slide perché ognuno di questi formati ha una descrizione c'è perlomeno una voce di wikipedia che vi dice dove è nato come è nato e così via i processi di standardizzazione ovviamente adesso qui o xml in teoria il formato standard di microsoft office sono il docx xlsx pptx il problema è che è un processo di standardizzazione che è avvenuto in modo definiamolo così bizzarro per cui alla fine lo standard non è uno standard voi avete alla stessa desinenza docx possono corrispondere ben quattro versioni diverse dello stesso documento intendo quattro descrizioni diverse dello stesso documento che quindi non ne fanno uno standard qui direi non andiamo avanti rapidamente gli standard devono riutilizzare gli altri standard se puoi vedere domande specifiche posso rispondere ma ovviamente è questo che dicevo se entro nei dettagli è disastroso purtroppo e alcune cose succedono per esempio ai formati fintamente standard che sono quelle di singolari allora il formato di excel non è compatibile col calendario gregoriano uno che potrebbe dire ma come è possibile allora non solo è possibile ma è vero ed è così da 30 anni i due che hanno sviluppato Visicalc che è l'antenato del formato dei documenti di excel erano talmente ignoranti ma lo hanno ammesso pubblicamente che non sapevano come venivano definiti gli anni bisestili nel calendario gregoriano gli anni bisestili devono essere divisibili per quattro ma se sono centurie cioè i secoli devono essere divisibili per quattrocento quindi il millenovecento non è bisestile e il duemila cento qualcuno di voi ci sarà non sarà bisestile io no però non vi scolvo ve lo dico da oggi il ventinove febbraio duemila cento non esisterà quindi il problema è che excel mette dentro il ventinove febbraio del millenovecento del millenovecento e siccome tutte le date per convenzione nei fogli elettronici vengono calcolate con un numero progressivo dal primo gennaio millenovecento in avanti chiaramente excel mette dentro un numero progressivo che non esiste e per rappresentare la data esatta deve mettere ogni volta deve fare una correzione la cosa buffa è che LibreOffice per essere compatibile con excel deve introdurre un errore dove l'errore non lo mette perché LibreOffice rispetta il calendario gregoriano questo ovviamente uno potrebbe dirmi ma le date le gestisce benissimo sì il problema per esempio se voi parlate con le persone che si occupano di alberi genealogici vi dicono excel vorrei conoscere quello che l'ha sviluppato in realtà si sa anche l'indirizzo di casa del signore che l'ha sviluppato per cui se volete fargli del male è possibile altra cosa font proprietarie sono bellissime queste font lo so sono molto belle sappiate che se usate il Calibri e non avete una licenza di Microsoft Office potreste pagare una multa variabile dai 399 euro a crescere perché perché queste font sono dentro l'end user license agreement di Microsoft Office che dice che le font distribuite con Microsoft Office possono essere utilizzate liberamente con l'applicazione con la quale sono state distribuite che in gergo legale significa non possono essere usate con nessun'altra applicazione ci sono anche dei simpatici brevetti vi invito ad andare a studiare questi simpatici brevetti esistono adesso questo sono 670 adesso le font libere su Google Fonts quindi se non ne trovate una che vi piace vi pago una cena questo sicuro quindi questi sono i formati che vengono utilizzati per i testi tenete presente che i formati standard sono quelli consigliati quindi è ovvio che poi vengono accettati i formati di Microsoft Office il problema è che adesso tutti noi usiamo i formati di Microsoft Office e io vi mando un documento in formato standard voi mi dite ma questo non è standard purtroppo è il contrario allora se lo mandate a me che sono cattivello poi vi beccate un'email di due pagine che vi spiega per quale motivo siete voi che non avete capito eccetera andatevi a studiare eccetera e così via però purtroppo è così e solo passando dall'educazione noi riusciamo a passare dalla nessuna interoperabilità di questi signori 2000 avanti Cristo scusate devo scusate a 60 anni mettere insieme la mano destra con la mano sinistra diventa un problema e quindi la mano sinistra è andata più avanti della destra quindi questi signori sono gli titi di cui vi dicevo di 2000 avanti Cristo questo è il formato non standard del 2000 dopo Cristo ma che è esattamente la stessa cosa sarebbe auspicabile che noi andassimo alla vera interoperabilità del formato che vi ho fatto vedere prima capisco che arrivarci dall'oggi al domani non è facile però purtroppo è quello che dobbiamo cercare di fare ripasso la parola a Sonia sì solo per una cosa finale che ci piaceva lanciare da qui e che rilancieremo nei prossimi giorni all'open data che vorrei come nel mulino che vorrei qui abbiamo messo semplicemente nell'open data che vorremmo non ci sono né dati precotti perché li vorremmo cucinare noi e quindi tutto quello che è già pronto ci può essere utile ma preferiremmo cucinarlo da soli e neanche formati chiusi quindi la cosa che abbiamo detto prima al di là di questo ci piacerebbe che ciascuno di voi dicesse quali sono i dati che vorrebbe trovare in formato aperto e che adesso non trova parto io con una cosa che è vecchia di due anni fa a me per esempio piacerebbe avere un formato un dato aperto un dataset sugli obiettori di coscienza questo dataset non c'è è almeno quello delle strutture pubbliche e a prescindere da quello che sono le proprie opinioni personali credo che sia importante capire in quali strutture pubbliche ci sono molti obiettori in quali ce ne sono di meno e vedere anche magari la percentuale e dare un'informazione così alle donne e capire quali sono le strutture dove si possono rivolgere e quelle dove magari invece non lo possono fare insieme a questo quello del registro tumori che abbiamo detto prima questi sono i miei due open data che vorrei e poi lascio a voi invece tutto tutto il resto quindi vi ringraziamo per la pazienza sicuramente questi sono i nostri riferimenti trovate qui le nostre email e trovate gli account twitter nel sito Libre Italia trovate anche tutti gli altri riferimenti nostri e di altri soci trovate il nostro account slide share youtube e tutto quello che vi può servire grazie se avete domande ovviamente sul creative commons è una questione molto dibattuta l'attribuzione l'utilizzo non commerciale soprattutto delle immagini un giornale ovviamente ne fa un uso commerciale di una cioè utilizzo l'immagine perché poi la pubblico sul mio giornale perché con il mio giornale comunque lo venderò oppure venderò la pubblicità all'interno quindi un'immagine su cui c'è una licenza che dice che può essere utilizzata solo per attività non commerciali non può essere presa da un giornale no non può essere presa questo è uno dei motivi per cui si consiglia di usare il non commercial solo in casi abbastanza ristretti ci sono dei casi in cui per esempio nel caso della musica il non commercial se voi per esempio noi abbiamo appena fatto io ho appena fatto una presentazione che aveva un reel preso da Giamendo e l'autore mi ha espressamente richiesto che ci fosse la clausola non commercial molto semplicemente perché lui ha detto per te va benissimo nel senso che la nostra è un'associazione no profit e quindi non è commerciale ma se poi qualcuno prende quello lì e ci fa dei soldi no cioè io sulla mia io ho della musica che uso commercialmente e della musica che uso non commercialmente quindi vorrei lui voleva tenere distinte le due cose in quel caso mi è sembrato corretto rispettare la sua volontà però i casi di non commercial devono essere questi sulle immagini si consiglia di rilasciarla non commercial poi è vero che ci sono degli studi fotografici che per invogliare le persone a utilizzare rilasciano alcune immagini con la clausola non commercial però in quei casi non possono essere usate cioè sono più dei teaser quelle le immagini rilasciate in modalità non commercial in quel caso che delle immagini rilasciate veramente con creative commons mettiamola così grazie 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 a tutti